Stiamo andando a ritirare la macchina che abbiamo preso a noleggio Sono le 4 ore del mattino e stiamo a pezzo Nel primo video avevo parlato di una testa Però pensandoci la testa è un po' banale Un po' spuntanata diciamo Quindi abbiamo pensato di prendere una macchina tipica americana Cioè un fuoristrada gigantesco Il problema è che l'auto a noleggio si trova a un'ora da noi La mia colazione di oggi è semplicemente un cappuccino Basta mangiare schifezze Adesso andiamo a prendere la macchina a noleggio E poi vi porto in Pennsylvania nel villaggio Amish Finalmente siamo arrivati a Filadelfia New York e Filadelfia sono due ore di macchina A Filadelfia un passaggio nella scarinata di Rocky è d'obbligo Bella, cioè nel senso non è che mi abbia entusiasmato più di tanto Però comunque un simbolo se viene a Filadelfia devi per forza passare È una scala eh Questa macchina è troppo grande Gigantesca Qui in America hanno tutti questi macchinoni giganti Ho visto delle Mercedes che comunque in Italia sono dei macchinoni Accanto a questa macchina che abbiamo noi adesso La Mercedes sembrava una panda Questa macchina è un po' so those of you that have european history and forgot or slept through it or whatever you may kind of vaguely remember martin luther and the reformation. so about 1525 sound traffic, we're going to turn off here, up here. so tractors are allowed in some amish communities mostly in the midwest where the farms are much larger than here. so tractors are allowed in some amish communities mostly in the midwest where the farms are I amish sono una comunità religiosa cristiana nata in Svizzera nel XVI secolo, che si è stabilita negli Stati Uniti d'America nel XVIII secolo. I gruppi più grandi si trovano in Ohio e in Pennsylvania. Con una media di sette figli per famiglia, sono tra le popolazioni a maggior incremento demografico del mondo. Tra il 1992 e il 2013, pensate, gli amish sono aumentati del 120%, mentre la popolazione degli Stati Uniti è cresciuta soltanto del 23%. I amish, si sa, rifiutano ogni tipo di oggetto moderno, ma questo è vero soltanto in parte. In realtà, i amish rifiutano soltanto gli oggetti di valore, ma che non portano però valore alla loro famiglia, come per esempio la televisione o il cellulare, poiché erogano esempi di costume e comportamenti sbagliati. I amish non possono fare a meno dell'energia elettrica e tutto quello che mangiano lo fanno con le loro mani, anche se in realtà li ho incontrati al supermercato a comprare le cose che compriamo tutti. Anche se gli amish sono così numerosi, in realtà, ormai, la maggior parte dei loro figli rifiuta questo stile di vita e si trasferisce nelle città per vivere una vita normale. Ho preso il gelato che fanno loro in casa, caramello salato e mela verde, anche se di verde non c'è niente, 7 dollari. Però ne hanno dato un chilo di roba. Facciamo l'unboxing della macchina. Guardate quando apro cosa esce. Questo è l'interno. Mamma mia che bestia. È gigantesca. Probabilmente dal video non rende, ma è gigantesca. La distanza tra me e il passeggero è tantissima. Questo è il retro. Tettuccio panoramico. Wow, che rumorone, mamma mia. Guardate che spettacolo. Pressione che i pianonalti ci basta. Ok, benissimo. Il cofano è gigante. Questo viene via. Allora, cerchiamo di capire come si parte, perché non ho mai guidato una macchina automatica. La cosa che c'è da fare è ricordarsi di eliminare la gamba sinistra. Piaccio il freno. Premo start. Metto su drive. Ok. Vado. È il modello RAM 1500 e altre cose che non ricordo. Costo 82.000 euro. È la super accessoriata. Abbiamo già fatto 100 dollari di carburante. Ok, via. Non ci credo. Non ci credo, è assurda questa macchina. Il pedale dell'acceleratore è super sensibile. Il freno un po' meno, però lo preferisco. Perché le macchine che inchiodono subito, appena sfiori il freno, sono terribili. Come ho già detto, non avevo mai guidato una macchina automatica. Anche perché non le preferisco. Preferisco guidare io, avere il controllo io della macchina e quindi avere il cambio manuale. Però posso dire di aver guidato una macchina gigantesca in America. L'accelerata che ha è pazzesca. Cioè, sentite. Che spettacolissimo. Ovviamente con questa accelerata è già terminato mezzo serbatoio. Che spettacolissimo. Per quanto riguarda il tour Amish, diciamo che è stato carino. È un'esperienza sicuramente da fare se si viene da queste parti. Però era una cosa prettamente turistica, secondo me. Perché abbiamo pagato 30 dollari, se non sbaglio. Per fare praticamente un giro sopra un furgone con una tizia che parlava e che neppure si fermava. Insomma, ci ha accompagnati soltanto a fare degli acquisti, presso sicuramente i suoi amici. Ci aspettavamo come da tour di visitare delle case vere, entrare proprio in delle case vere degli amici. Però questo non è accaduto. Comunque lei, mentre raccontava un po' in inglese, ci ha raccontato un po' la storia. Ci ha spiegato un po' come funzionano le scuole. E' curioso perché da quando i bambini hanno 6 anni, iniziano la scuola e la concludono a 14. Vanno tutti a scuola insieme. Tutti in una stessa aula, tutti con la stessa maestra. A prescindere dall'età. A prescindere dall'età. Tutti insieme. Qui praticamente hanno deciso che le biciclette erano un mezzo troppo avanzato da utilizzare per gli amici. Però in compenso hanno i monopattini. E ci hanno mostrato che davanti alla scuola c'erano tutti i monopattini parcheggiati dei bimbi che vanno a scuola col monopattino. Un'altra cosa che ho notato è che diciamo loro rifiutano tutta quella che è la tecnologia, però hanno le carrozze con i led, poi hanno nei negozi il bancomat. Anche se non lo sanno usare perché già hanno praticamente fatto perdere tipo un quarto d'ora perché non sapevano proprio usare il bancomat. Però poi comunque siamo riusciti a pagare. Ho un problema con le batterie perché le trovo spesso scariche. Cioè caricate veramente poco tempo prima e le trovo scariche tipo dopo 10 minuti. Ci siamo dimenticati di mangiare. Sono le 5 del pomeriggio e non l'abbiamo ancora mangiato. Siamo da Chick-fil-A. Alla fine gira che ci rigira, siamo sempre nei fast food. Ho preso patatine, le classiche patatine. Anzi no, proprio classiche non sono. E poi ho preso una Spice Deluxe Pepper Jack. Situazione New Yorkese. Ho speso soldi. Ho comprato un Funko Pop gigante. King Kong gigante. Però adesso devo proprio aprirlo. Ditemi se non è una figata. Guardate che bello. Questo lo metto esposto. La testa si può girare. Le braccia... No, restano in quel modo. Le gambe pure. Vabbè, soltanto la testa si può modellare. Che spettacolo. Questo lo metto in vetrina. Sono contentissimo. Anche per oggi è male in cuore. Vi devo salutare. Mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Seguitemi su Instagram. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!